I medici dell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova hanno ricostruito il cuore a una bambina di 21 mesi di Bergamo affetta da una grave malformazione dalla nascita che in altri ospedali era stata ritenuta non curabile. Alla piccola era stata rifiutata anche la possibilità di un doppio trapianto, cuore e polmoni e l'era stato anche impiantato un pacemaker. Da allora la sua sopravvivenza è sempre stata legata ad apparecchiature per la respirazione, respirazione. Per i primi due mesi di vita è stata dipendente da una ventilazione meccanica poi da un supporto respiratorio non invasivo ma continuo garantito da un'apparecchiatura e nutrita solo con sondino nasogastrico. La cardiopatia congenita è stata corretta e la bimba è stata dimessa con la prospettiva di una vita normale e la gioia dei genitori non ha limiti. Oggi nostra figlia è una bambina che inizia nuovamente a vivere, dicono, respira autonomamente, inizia a mangiare vero cibo, inizia a giocare, ci abbraccia.